Musica Musica Incontro nella sede della cittadella regionale sul progetto dell'otto gagliato soverato della trasversale delle serre. Catanzaro, sesta edizione dell'agenda scolastica Il mio diario della Polizia di Stato. Rinnovati gli organi della Fondazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro. A Sersale, Raduno di Ferrari. Un cordiale saluto gentili telespettatori ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di S1 TV. Un uomo di 78 anni, Giuseppe Genovese, è morto in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 160 che dalla statale 106 porta a Villapiana, paese. La moglie della vittima, Rosa Ieta, di 76 anni, che era a bordo della vettura, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con l'elio soccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è tuttora ricoverata. I coniugi erano a bordo di una Fiat a grande punto che, per causa ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada andando a finire contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Trebbisaccia e i carabinieri di Villapiana che hanno effettuato i rilievi. Oltre a sanitari e carabinieri, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castrovilleri. I carabinieri della compagnia di Catanzaro e Serglia Marina, nel corso di controlli finalizzati alla repressione dei reati inerenti, il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato e posto a domiciliare un 32N RM di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, nella cui abitazione sono stati trovati oltre 600 grammi di droga. I carabinieri delle stazioni di Santa Maria Zagaresi si sono presentati a casa dell'uomo dopo aver notato movimenti sospetti. Durante la perquisizione, l'uomo, a seguito di esplicito invito, ha consegnato una busta con 14 grammi di marijuana insieme a un bilancino di precisione, un'altra busta con 200 grammi di marijuana e due panetti di hashish dal peso complessivo di grammi 202. I militari hanno poi trovato un coltello intriso di hashish ed un altro involucro con altri 100 grammi di marijuana e 1.435 euro in banconote di vario taglio. Altri 55 grammi di marijuana sono stati trovati infine in un locale adiacente l'abitazione. I finanzieri della Comando Provinciale di Reggio Calabria e dello Sciqua hanno arrestato a Reggio Calabria Vincenzo Morabito, di 51 anni, e ha notificato un'interdizione dell'esercizio e dell'attività direttiva di impresa per un anno a Giussi La Rosa, di 38 anni, sua ex convivente con l'accuso di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili. Contestualmente sono stati sequestrati beni nei confronti di Girolamo Strangi di anni 75, Demetro Rossini 56, Immacolata Leonardo 52 e per Giussi La Rosa per un valore stimato in 5 milioni di euro nelle province di Reggio Calabria, Siena, Milano, Roma, Catania e Vicenza. Morabito e Strangi sono ritenuti vicini sia alle cosche Bellocco, Piromalli e Rugolo, attive sul versante tirrenico della provincia Regina, che ai De Stefano Tegano operanti a Reggio Calabria. Le misure eseguite costituiscono l'epilogo delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, in relazione ai fallimenti dichiarati tra il 2010 e il 2015 di alcune imprese operanti nel settore del commercio di elettrodomestici ed apparecchi televisivi. Cambiamo completamente argomento. L'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musman ha convocato e presieduto un incontro che si è tenuto nella sede della cittadella di Catanzaro sul progetto dell'otto gagliato soverato della trasversale delle serre. Su questo tratto, nell'ambito del contratto di programma 2016-2020, tra il Ministero delle Infrastrutture e ANAS sono stati stanziati e resi disponibili 54,6 milioni di euro, i particolari, in questo servizio. L'obiettivo di questo incontro, che è peraltro il terzo che abbiamo sull'argomento, è quello di dare la possibilità a tutto il territorio interessato, rappresentato dai sindaci del territorio che va da gagliato fino a soverato, fino al mare, per poter proporre variazioni rispetto alla proposta progettuale che ANAS sta elaborando del nuovo progetto di collegamento del tratto terminale della trasversale delle serre. Su questo tratto oggi sono disponibili 54,6 milioni di euro, ma la proposta originaria del progetto in questo ultimo tratto predeve un investimento per ulteriori 140 milioni di euro. L'idea condivisa anche dal territorio in linea di principio è quella invece di intervenire prevalentemente sulle viabilità esistenti e quindi non immaginare la realizzazione di una nuova trasversale delle serre, ma di completare i tratti e ammodernando quelli esistenti e realizzando laddove è necessario delle varianti. In questo modo la proposta progettuale potrebbe avere un costo molto più ridotto. Si stimano necessità ulteriori di fonti finanziarie di 25-30 milioni di euro in più rispetto ai 54,6 milioni esistenti, ma la discussione oggi in campo è quella di definire quali tracciati sulle varianti dover eseguire. Quindi il nostro scopo in questi incontri è cercare di fare in modo che possa essere condivisa sia dai progettisti e sia dal territorio interessato da questa infrastruttura la proposta che poi dovrà essere portata al tavolo del Ministero per aggiornare l'accordo di programma in essere tra il MIT e l'ANAS. Possiamo ritenerci soddisfatti di questo incontro? Diciamo che è stato un incontro molto porficuo, che ha dato delle disposizioni, delle direttive precise e che è venuto incontro notevolmente a quanto il comitato già negli anni scorsi aveva chiesto, cioè quello di adeguare una strada provinciale con i crismi della trasversale delle serre, quindi con un'unica direttrice e che ci porterà sicuramente ad avere un'infrastruttura per i prossimi anni in maniera molto più proficua, molto più veloce, senza fronzoli e senza aspettare altre progettazioni. Per avvicinare gli studenti nelle scuole primarie alla cultura della legalità si è svolta l'iniziativa Il mio diario, promossa dalla Polizia di Stato per l'anno scolastico 2019-2020 che è giunta alla sesta edizione. Vediamo. Il valore nell'ambito del valore di una polizia di prossimità, di una polizia presente, di una polizia che fa con amore soprattutto il lavoro di prevenzione. Questo è un lavoro di prevenzione perché è un lavoro che si basa sulla cultura, quindi questa vicinanza alle scuole che noi abbiamo durante tutto l'anno scolastico, negli anni scolastici precedenti e lo avremo anche nel futuro. Questa è una delle tante iniziative che si innesta in tutto questo discorso di promozione della cultura della legalità. Fondamentale se vogliamo avere una società che viva nella legge, nel benessere, nella crescita anche economica. Io come vedete ho spiegato ai bambini che se si rispettano le leggi cresce l'intera società. Se le legole non vengono rispettate, uno crede di fare il furbo, di avere di più, di avere qualcosa di meglio rispetto agli altri. Invece non sta facendo niente di buono né per se stesso né per gli altri, né per la società intera. E purtroppo gli episodi di cronaca che ci sono tutt'oggi, tutt'ora, confermano quello che noi stiamo dicendo. Quindi è fondamentale che fin dalla più tenere età i ragazzi nelle scuole, con noi, ma soprattutto con gli insegnanti, ma soprattutto con i genitori, possano crescere nella cultura della legalità. Sentirla non solamente a parole, come possiamo dirgliela a noi, ma vederla nell'ambito della loro famiglia, nell'ambito della loro scuola, nell'ambito della loro città. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Il nostro lavoro, la nostra finalità, anche con la consegna di questo diario, vuole essere appunto questo. L'impegno nei quartieri più a rischio, dicevo noi, quando abbiamo avuto dei problemi, delle difficoltà, tipo per esempio il rinvenimento di droga all'esterno della scuola e magari quella scuola non era presente tra quelle che avevano chiesto gli incontri nell'ambito del progetto di educazione alla legalità, siamo stati noi a bussare alla porta di quel dirigente, di quel docente per offrire la nostra presenza, il nostro contributo. Quindi l'impegno della polizia c'è, non solo in termini di repressione, ma anche in tempi di prevenzione. Ma questa prevenzione non la deve fare solo la polizia. Noi questo ce lo dobbiamo mettere in testa tutti qua. Non è solamente un discorso di divise. Avere una società che vive nella legalità, vive nel benessere, vive nella crescita economica, è una società che deve essere aiutata in questo da tutte le istituzioni. Ma devo dire che questa iniziativa si inserisce nel quadro di tantissime iniziative che nel corso dell'anno scolastico di questo e degli anni precedenti il Ministero dell'Istruzione e in particolare l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro ha fatto insieme alla Questura. È necessario che da parte mia ci sia un forte riconoscimento dell'attenzione che il signor Questore e tutti i suoi collaboratori riservano alle scuole calabresi, soprattutto alle scuole del primo ciclo, che sono quelle che partecipano veramente con entusiasmo a tutte queste iniziative e sulle quali, sugli studenti, sui quali è possibile di più lavorare in quell'ottica di prevenzione di cui parlava prima del signor Questore, che è veramente lo scopo dell'istruzione e dovrebbe essere lo scopo di tutte le istituzioni che vogliono migliorare la nostra società. Quindi le scuole partecipano con entusiasmo, gli studenti vogliono conoscere il mondo della polizia, però sono affascinati dal mondo delle regole, dal mondo della legalità. I bambini soprattutto in questa età hanno un altissimo senso della giustizia, che poi semmai viene in qualche maniera spento nella loro crescita per varie vicende che possono accadere all'interno della famiglia o del contesto sociale in cui vivono. Quindi lavorare su di loro è veramente una gioia per noi perché è il momento in cui può esserci veramente un cambiamento. Ladro di Merendine, arrestato dall'ispettore Fazio. La fantasia di Andrea Camilleri e di uno dei suoi più celebri romanzi diventa realtà a Reggio Calabria, dove la polizia di Stato ha arrestato il responsabile di una ventina di furti in uffici pubblici e scuole ai danni di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande, con il prelievo di denaro e del loro contenuto commerciale. L'arrestato di cui sono state fornite soltanto le iniziali è FG di 31 anni, originario di Palermo, ma residente a Reggio Calabria. A carico di FG è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria sul richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento restrittivo e l'arresto di FG sono state effettuate da un ispettore della questura di Reggio Calabria che si chiama proprio Luigi Fazio, come il più stretto collaboratore del commissario Montalbano. Secondo il questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone, il maestro Andrea Camilleri, direbbe questa volta Fazio è stato più bravo di Montalbano. Sono stati rinnovati gli organi della Fondazione dell'Ordine, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro. Il Consiglio Superiore della Fondazione dell'Ordine, presieduta da Rosa Maria Petitto, ha provveduto a rinnovare gli organismi dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Il nuovo Presidente Antonio Bevacqua succede a Mario Antonini che ha retto la Fondazione sin dalla sua Costituzione. Fanno inoltre parte del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gianluca Corso, Giuseppe Ierace, Filippo Mancuso, Francesco Marchese, Giuseppe Tallini e Salvatore Rubino. Il Collegio Sindacale è composto da Massimiliano Meloni, Presidente, da Nicola Iello e Sindy Vergati, componente. Antonio Bevacqua, che precedentemente ha ricoperto anche la carica del Vice Presidente dello stesso Ordine, si è detto lusingato dell'incarico ricevuto e, dopo aver ringraziato il Consiglio Superiore per la scelta che lo ha riguardato, ha rivolto un sentito pensiero di gratitudine al Presidente uscente Mario Antonini e al suo Consiglio per il lavoro fin qui svolto che fungerà, certamente da trampolino di lancio, per sempre più ambiziosi traguardi. Tre persone sono rimaste intossicati in un incidente avvenuto all'interno di un'attività commerciale di lavanderia a Botticello nel Catanzarese, intossicazione provocata da una fuoriuscita di cloro da un macchinario situato all'interno dei locali. I feriti sono il proprietario dell'attività, il nipote ed una terza persona presente al momento dell'incidente che, nell'immediatezza dei fatti, è intervenuto per soccorrere gli altri due. I tre intossicati, presi in cura dal personale sanitario del suo M118, sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, del distaccamento di sellia marina del comando di Catanzare, che hanno provveduto a bloccare la perdita della sostanza chimica, a bonificare l'aria con materiale assorbente e ad areare i locali fino al completo assorbimento dei vapori di cloro. E infine a Sersale, nel giorno del primo maggio, festa dei lavoratori, 24 Ferrari hanno sfilato per le vie cittadine. Primo maggio è rosso, qui a Sersale, una calorosa accoglienza da parte di tutta la popolazione di questa ridente cittadina, ottima organizzazione della Proloco, come ripeto accoglienza calorosa da parte di tutta la gente e lo scenario è quello di 24 Ferrari che oggi dedicano questa giornata particolare a onorare un paesino che ci ha veramente ammaliato, entusiasmato con il calore e l'accoglienza che solo la Ferrari riesce a emanare e a far sviluppare la gente in maniera assoluta. Siamo veramente onorati di avere oggi questo grande evento qui nella città di Sersale, grazie alla Proloco di Sersale che ha voluto veramente stupirci ancora una volta, è un'associazione molto attiva sul territorio e ha portato qui nella nostra città un evento veramente importante. La Ferrari è un marchio che rappresenta l'Italia, rappresenta lo sport e rappresenta quello che è il Made in Italy per eccellenza. La Ferrari è un grande marchio che richiama subito alla mente le corse e oggi proprio il primo maggio penso che sia una caccia anche per ricordare il 25esimo anniversario della morte del grande Ayrton Senna, quindi un grande dello sport mondiale che il Cavaliere Ferrari avrebbe voluto avere nella scuderia Ferrari. Quindi sono veramente contento e felice di essere qui in questa occasione, quindi è un evento che ha raccolto una grande presenza di pubblico, di ammiratori, di questo grande marchio italiano. Sì, siamo a Sersale, la nostra associazione oggi ha cercato di promuovere un territorio veramente bello ed entusiasmante. Accogliamo tutti gli appassionati dei motori, le Ferrari che riempiono veramente il cuore di passione e entusiasmo tra i partecipanti. Si tratta di una macchina che ha fatto la storia veramente d'Italia e non solo, si tratta di un in Italia veramente bello che cerca in qualche modo sempre di captare l'attenzione di tutti, gli appassionati e nonno. Oggi siamo qui quindi a Sersale con la nostra associazione che cerchiamo di fare qualcosa di bello, far passare una giornata diversa a coloro che ci hanno regalato questa immensa gioia. Che dire, siamo veramente soddisfatti, abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale da un punto di vista proprio sociale, per cui va bene così, siamo veramente contenti. Grazie e a tutti buon divertimento. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, il nostro OTG si conclude qui come sempre, grazie di averci preferito e buon proseguimento con la programmazione di S1 TV. Arrivederci. Grazie a tutti.